Che cosa è successo? Niente, la mattina dell'uno, quindi a lunedì 33, so che sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere un piccolo incendio e poi non so cosa è successo perché noi non ce l'avamo ovviamente e quindi poi il giorno dopo, la sera, sono passata qui per caso e ho visto quello che era successo. Che cosa ha preso fuoco? Il bidone della carta e il contenitore per i giornali della pubblicità. Però sono stati arrecati danni anche all'esercizio che è a fianco? Sì, sì, a fianco che anche qui qualcosa, adesso i titolari e i responsabili stanno vedendo loro i danni che ci sono stati agli impianti, alle macchinette. Adesso vediamo un attimo, stanno vedendo loro, io sono una semplice dipendente, quindi stanno vedendo i titolari cosa è successo e i danni che ci sono. Ci sono anche delle telecamere di videosorveglianza nel vostro negozio oppure qua nella zona? Noi ce l'abbiamo all'interno, all'esterno c'è quello della banca che non so se arriva qui fuori e poi la parruccheria qui a fianco so che è videosorvegliata, però non so se è all'interno come noi o anche all'esterno. Il suo titolare ha porto denuncia? Adesso era fuori Fano, sta ritornando per farlo, quindi la farà senz'altro.